Salve ragazze e ragazzi, benvenuti, bentrovati, eccoci qua, siamo nel mio interattivo relativo ai segni zodiacali, alle previsioni previste dai miei tarocchi, dalle mie carte oracolari per il segno del leone nel 2023. Quindi ho deciso di fare anche io, ce ne saranno tanti in giro perché insomma a fine anno tutte quante noi faremo degli oroscopi, il mio format è un format molto conciso, breve, non voglio fare cose molto lunghe però voglio trattare un po' tutti gli argomenti, quindi tratteremo con i tarot, romantic tarot, l'amore, cosa vi accadrà, le previsioni per il segno del leone in amore. Con i tarocchi classici andremo a vedere il lavoro, con le sibille di Nostradamus andremo a vedere gli imprevisti, la fortuna, le occasioni belle, brutte, insomma tutto quello che vi succederà a livello di imprevisto, di fortuna e con le risposte degli angeli andremo a vedere gli angeli, cosa ci deve arrivare dal cielo, un consiglio, un suggerimento, qualsiasi cosa. Allora io inizio subito, vi voglio dire che potete guardare questo video anche se avete l'ascendente oppure se avete l'una o venere in leone. Ovviamente io ho postato tutti gli altri video sugli altri segni zodiacali quindi andate a vedere se lo conoscete anche il vostro ascendente oppure appunto come dicevo il segno che governa la vostra luna, la vostra venere che è importante anche quello. Allora segno del leone, che cosa vi accadrà in amore? A voi leoncini cosa è previsto per voi in amore nel 2023? Quindi cosa vi accadrà di eclatante perché insomma è chiaro io chiederò le cose, la cosa più rilevante tra tutto l'anno perché certo non è che insomma con un'assesa si può prevedere, prevenire un intero anno. Qui abbiamo già un cavaliere di bastoni molto bene, abbiamo un matto, insomma voglio dire qua già abbiamo un incontro galante, un conquistatore, un po' diciamo un po' bugiardello ma anche molto affascinante. Vedete questo matto come è descritto in queste carte, un bel tipo, vediamo, vediamo, può darsi che poi questo magari all'inizio è così, poi succede qualcosa. Comunque qua è una persona questo un po' mattarello, un po' così tra le righe un'anticonformista, però una persona galante, una persona anche molto, come posso dire, seduttiva, no? Appassionata. Allora qui mi viene fuori anche la carta della luna, quindi qua ci saranno, beh qua ci sarà una bella situazione, forse magari non sarà l'amore della vostra vita, però qua vi divertirete tanto perché insomma qui questa carta ci parla di bacio, di capricci, sapete quegli intrighi amorosi che succedono a volte che ci rendono così affascinanti alcuni amori, eh? Quindi però dovete stare pure un po' attenti a cercare di non illudervi troppo in questa situazione. Comunque qua ci saranno delle belle distrazioni, cioè vivrete una bella storia, una storia molto molto passionale, focosa, stravagante, con degli aspetti belli e brutti, dove ci sarà un appagamento molto forte, però cercate, vi darà una grande distrazione, insomma vi divertirete tanto, però cioè non con una persona che fondamentalmente però vuole essere libero, non vuole impegni, quindi insomma non sarà l'amore della vostra vita, però sarà una cosa bella, diciamo una bella cosa, una bella storia appassionale che potrete vivere con questa persona. Allora, prendiamo l'ultima carta, non voleva proprio uscire, e qua abbiamo anche la carta comunque, oddio, questa che cos'è? Ah, le stelle, scusate, mi ha sempre a che fare con tutti questi mazzi di carte sempre così diversi l'uno dall'altro. Guardate, ma tutto sommato abbiamo qui anche un otto di denari, quindi comunque ancora galanteria, insomma questa è una persona veramente molto galante, molto affascinante, e questo tenterà anche comunque di farvi innamorare, per carità, perché no? E diciamo che una speranza, una fiducia, un qualcosa potrebbe anche succedere. Allora, nasce un po' questa situazione, per voi leoncine e leoncini del 2023, come una storia così stravagante, diciamo non superficiale, alle grotta, così, sopra le righe, dove magari ci saranno delle schermagne d'amore, ci sarà un appagamento, questo è un single incallito, ve lo dico subito. Una persona molto affascinante, molto seduttiva, molto galante, vi farà sentire una regina, ecco, diciamoci la verità, vi darà un po' tutto, un po' tutto quello che una donna desidera. State attenti a non innamorarvi troppo, anche se poi comunque potrebbe anche avere un risvolto positivo, perché no? Perché abbiamo comunque la carta delle stelle, quindi la speranza, la realizzazione, magari il favore delle stelle, potrebbe incoraggiare, vedete, a far nascere qualcosa in più di quello che viene descritto al momento qua dalle carte. Vediamo nel lavoro cosa succederà per voi. Allora, qui viene una carta di ostacoli, però voi avete comunque un equilibrio molto buono. Allora, qui ci sono delle situazioni un po' di pigrizia nel lavoro, è come se voi siete un po' stanchi di questo lavoro, volete un po' più di stabilità, un po' più di realizzazione, soprattutto un po' più di soldini, eh, vi vedo qua che cercate. Quindi qua state, insomma, riflettendo, volete un'innovazione, qualcosa di nuovo, perché voi dite io c'ho le virtù, c'ho le competenze, e quindi vorreste proprio cambiamenti, cambiamenti, ma i cambiamenti ci saranno, eh? Ci saranno, vedete, qua ci sarà proprio il crollo della situazione che non vi piace, perché qua è palese che non vi piace, non vi sentite soddisfatti. Quindi con questa torre andrete proprio a chiudere totalmente la situazione che avete, eh, in questo momento. E se ne aprirà una molto più retributiva, un cambiamento felice, vedete qua, questa carta ci parla di cambiamenti, questo potrebbe essere, non lo so, un lavoro inerente con un negozio, con una casa. E insomma, qui c'è qualcosa, c'è proprio la, eh, l'esuberanza del cambiamento. Quindi, e poi con le vostre virtù, voi siete pieni di virtù, qua sicuramente il successo è assolutamente pronosticato. Quindi qua, nel lavoro, state vivendo, eh, un periodo non bello, neanche a livello economico, ma supererete questi ostacoli lasciando sto lavoro, comunque cambiando, magari non lo lasciate, però cambiate qualcosa di questo lavoro e attraverso questo cambiamento avrete successo. Andiamo a vedere, invece, nell'ambito della fortuna. Abbiamo la rosa, l'albero, l'ancora, lo zodiaco, il serpente, fondo mazzo, gli uccellini. Allora, diciamo che in questo periodo vostro del 2023 ci avrete un po' di alti e bassi, eh, parliamo prima dei bassi, diciamo così. Qua, intanto, voi vi sentite un po' insidiati, calugnati, come se qualcuno, vi sentite che qualcuno parla male di voi, qualcosa del genere. Quindi temete un avvenimento, un contrattempo che voi pensate che vi può essere dannoso. Invece, eh, siccome siete assistiti dalle stelle, avete la carta dello zodiaco, quindi di questa situazione che pensate che sia brutta, invece, eh, avrete un beneficio, un vantaggio. E quindi questo vostro carattere, comunque calmo, riflessivo, però a volte anche indeciso, eh, vi, eh, mi dicono le stelle di avere un po' più di fermezza, di volontà, e avrete dei vantaggi maggiori. Perché vedete, voi spesso potete commettere degli errori, eh, a circa delle decisioni da prendere. Quindi, insomma, avete un po' di indecisioni su qualcosa che vi riguarda, eh, non prendendo mai una decisione giusta, eh, insomma, vi sentite in questo modo. Però qua vi dicono le carte, non cambiate la via in quale vi trovate, cioè non abbandonate la via nella quale vi trovate. Quindi, qualsiasi decisione, non abbandonate la via. E lì avrete, quindi dovete accettare anche dei consigli che vengono da persone amiche, sagge, che, eh, perché voi siete una persona anche molto orgogliosa, troppo, e questo vostro orgoglio vi potrebbe creare dei gravi imbarazzi, delle situazioni limiti. Anche la carta della torre ci parla di un orgoglio punito, eh, quindi voi siete sempre il segno del leone, un po' egoici siete come carattere. Quindi fate attenzione all'orgoglio. Poi, eh, la fortuna, beh, qua dicono le carte, voi non siete una persona fortunata, diciamo, nel senso che non è che dovete sperare nella vincita al gioco oppure la fortuna che vi cade dal cielo. Qua vi dovete accontentare delle vostre forze, ma voi comunque le forze ce le avete, è altro che se ce le avete, quindi comunque andrà tutto per il meglio. Però, diciamo, questo è un anno, eh, che, diciamo, non, può essere produttivo, ma non vi porterà quelle soluzioni proprio che voi desiderate tanto. Però, eh, vi produrrà un inizio di un cambiamento veramente sia nel lavoro, eh, forse probabilmente anche nell'amore, e anche nella vostra vita comunque, non così, insomma, di opportunità, di occasioni, di fortuna. Vediamo gli angeli che consiglio vi danno a voi del leone per il 2023. Dai retta alle tue intuizioni e aspetta. Quindi aspettate, dovete dar retta a ciò che voi, bene o male, intuite e aspettate, date tempo che le cose si possono, eh, diciamo, aggiustare, delineare meglio per voi. E poi prendete le giuste decisioni. Va bene, ragazze e ragazzi del leone, allora io vi auguro un meraviglioso 2023 a voi tutti del leone, portarne l'ascendente o luna o venere. Ovviamente mettetevi un like se vi è piaciuto il video, oppure iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così tutte le mie attività le potete avere in notifica e non vi perdete nulla. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a tutte le mie altre situazioni. Un bacione enorme, buon 2023 a tutti voi del segno del leone. Ciao! 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 Ciao!